Buonasera a tutti, abbiamo la fortuna di avere con noi Italo Grassi, lo scenografo di questo allestimento di Cavaleria Rusticana e che fino a fatto la piccola Irene. Italo Grassi, una breve presentazione, è stato direttore allestimenti scenici al Teatro Comunale di Bologna, è docente allestimenti alla Libera Università delle Arti, sempre di Bologna, attualmente ricopre la carica di direttore allestimenti scenici al Teatro del Maggio Musicale del Fiorentino. Quindi Italo Grassi, scenografo e costumista di fame internazionale, volevo chiederti come hai affrontato il lavoro di Cavaleria Rusticana e che fino a fatto la piccola Irene con la regia di Camilleri. Ti ringrazio per la fame internazionale, ma in questo caso ho fatto solo le scene, i costumi sono di Carmela Lacerenza e ci tengo a precisare che Cavaleria Rusticana è stato un lavoro interessante fatto insieme a Rocco Mortelliti che traduce in pratica l'idea scenica, l'idea registrica di Andrea Camilleri e invece, proprio perché nessuno, il pubblico non la conosce, che fine ha fatto la piccola Irene, è un'opera musicata da Marco Betta sul libretto di Rocco Mortelliti e la regia è appunto di Rocco. È stato molto interessante questo lavoro perché è stata un'occasione per affrontare un titolo nella sua essenza, nella sua sicilianità ed Andrea Camilleri indubbiamente è riuscito a toccare delle corde, io avevo già messo in scena questo spettacolo in altre occasioni, però qui ho scoperto delle corde nuove, delle potenzialità nuove di questo racconto, quindi è molto interessante. Cavaleria, che cosa si differenzia dalla tradizionale cavaleria che abbiamo sempre visto? Cosa c'è in più nella regia di Camilleri e nella tua scenografia? Essenzialmente Camilleri ha chiesto a me e a Mortelliti di individuare una Sicilia arcaica, una Sicilia primitiva, una Sicilia rude, una Sicilia semplice, non è una città, è un piccolo borgo quasi di passaggio dove si consuma un dramma. Quindi l'idea è quella di sottolineare quanto c'è di più radicato, arcaico nella vicenda, slegandolo a tutto quello che è un facile bozzettismo iconografico legato alla Sicilia della tradizione più vieca. Sono costretto a passare per questioni di tempo ad altre domande per conoscerti anche meglio. So delle tue esperienze in Giappone, che sei stato impegnato nel presentare titoli verdiani meno noti, questo in passato, ma è più recente l'inaugurazione del nuovo teatro di Showa University a Tokyo, se ci vuoi parlare di queste tue esperienze in Giappone. Sì, io adoro lavorare in Giappone, ho avuto la fortuna e l'opportunità di frequentare questo bellissimo popolo, perché le persone sono eccezionali, da ormai vent'anni vado, e lavorare in Giappone è sempre molto bello, secondo me, perché loro sono appassionatissimi di lirica, e adorano farla bene, quindi dal punto di vista tecnico anche danno il massimo per poter realizzare l'idea che uno scenografo italiano porta, quindi per noi è di grandissima soddisfazione. Che titoli hai fatto in Giappone? Ad esempio con la Showa University abbiamo inaugurato questo bellissimo teatro moderno con Piede Tolomei, però già un paio d'anni fa, quest'anno abbiamo fatto Falstaff, l'anno scorso abbiamo fatto l'esito d'amore, quindi insomma... Di grande successo immagino. Piede Tolomei non era di repertorio e quindi era la prima volta che veniva eseguita in Giappone, però è stata comunque molto apprezzata e il pubblico è sempre molto caloroso. Una domanda doverosa su Lucio Dalla, so che con lui hai realizzato allestimenti importanti, non ultimo Tosca, amore disperato, l'allestimento è il tuo, e ti chiedo se ci aiuti a rendere un doveroso omaggio a questo grande artista. È una domanda difficile, è un compito difficile, perché credo che Lucio non abbia bisogno di talmente grande quello che ha scritto e ci lascia. Con lui però, ecco, ci siamo conosciuti in occasione di questa opera moderna che lui scrisse nel 2003, ci siamo frequentati per quasi dieci anni, nove anni, lui ha debuttato anche nella regia lirica, abbiamo realizzato insieme diverse opere, abbiamo fatto la Vegas Opera, abbiamo realizzato Arlecchino di Busoni, Pierino il Lupo anche. Pierino il Lupo, dove lui eseguiva anche la voce recitante, però l'abbiamo fatto in forma scenica, sempre con la sua regia. Devo dire che come un bambino in qualche modo tutto quello che lui faceva, lo faceva con grandissimo, scusate ma un po' mi commuovo perché è stato veramente molto vicino a me. Lui l'ha sempre fatto con tantissimo entusiasmo e questo ha permesso di individuare, di trovare delle strade anche nuove nella regia lirica anche se non l'aveva mai frequentata perché lo affrontava con grande rispetto da musicista ma con la voglia di fare, come ha fatto un po' tutto quello che ha fatto nella vita. Io ringrazio Italo Grassi, lascio la parola alla regia e buon proseguimento di serata. Grazie.